Un defunto chiede soffraggi a padre Pio. Prima guerra montiale, un fatto insolito nel convento Romitaggio a San Giovanni Rotondo. La sorella del padre superiore, padre Paolino, si reca a San Giovanni Rotondo per una visita al fratello e per la direzione spirituale da parte di padre Pio. La sera, dato che c'è stata una forza nevicata, scendono padre Pio con il superiore, scendono nella foresteria e lì c'è bel fuoco del camino, si riscaldano battute scherzose e poi padre Paolino con la sorella vanno in chiesa a recitare il rosario. Padre Pio rimane nella foresteria, mentre prega, sente aprire la porta e vede entrare un vecchietto. Si avvicina a padre Pio, si siede a fianco a lui e si presenta. Io sono Tizio e Caio, sono morto in questo convento nel 18 settembre 1908, quindi la data precisa. E dice che dormendo in convento, perché allora il convento era un genere di frati, ma era stato adibito agli anziani, ai vecchietti, fumando si addormenta e prende fuoco i pagliericci e lui muore. Naturalmente poi questo contadino, questo vecchietto, dice a padre io sono ancora in purgatorio, padre celebrate una messa per me. Padre Pio dà le assicurazioni e lo accompagna al portone di uscita, che era ben chiuso. Padre Pio apre il contadino, il vecchietto va via e vede che nella neve non ci sono pedate. Quindi richiude impressionato di questa situazione, al rientro di padre Paolino con la sorella, non dice nulla per non impressionare la sorella. Il giorno dopo parla col padre Paolino, il quale si rega al municipio, all'ufficio anagrafe e con gli impiegati fanno la ricerca e risulta tutto preciso che questo vecchietto era morto, bruciato nel convento nel convento e del quale non si sa più nulla. Questo è il fatto. Ora noi ci domandiamo, come si spiegano queste situazioni? Dopo morte dove l'anima va? Andiamo in paradiso? è il paradiso dove si trova. E quindi dobbiamo cercare di andare in ricerca nella Sagra Scrittura per avere delle indicazioni. Allora dobbiamo dire che il paradiso non è una città fatata, non è un luogo radioso, un grande parco, bellissimo, nulla di tutto questo. Il paradiso è Dio stesso e dove si trova Dio con tutte le anime che sono andate in paradiso? Dove sta Dio c'è tutta la corte celeste. E quindi questa è una notizia, è una idea molto bella che ci dà la risposta che non possiamo localizzare i luoghi dove non ci stanno i luoghi. E quindi ma c'è la realtà di Dio stesso. E questa è la gioia più grande per un'anima, vivere insieme a Dio. E allora possiamo anche immaginare che Dio sta su questa terra, che Dio sta nelle nostre case, che Dio sta nel campo sportivo, che Dio sta nel campo di lavoro. E perché no? Le anime dei nostri trapassati stanno insieme a Dio nelle nostre case, nel posto di lavoro, nel campo sportivo, eccetera. E quindi questo ci chiarisce anche l'altra realtà, che noi non siamo avulsi completamente con i trapassati. Essi non vivono più con noi, non stanno più con noi, ma vivono sempre con noi, perché dove sta Dio ci sono anche essi. E le anime dei defunti formano la comunione dei santi. In Dio non ci sono i giorni, gli anni e i secoli. Tutto è presente. Nell'altra vita non vi è l'orologio né il calentario. I defunti in condizioni differente già partecipano della comunione con Dio. La gioia delle anime sante è quella di aiutare noi che siamo ancora sulla terra in attesa di raggiungere la patria. Vorrei raggiungere un minuto, chiedendo scuso alla tv, vorrei portare una battuta simpatica di Padre Pio, perché noi sappiamo che facilmente scampiamo lucere per lanterne e quindi vediamo nei luoghi bui, vediamo le anime del purgatorio, sentiamo del rumore, eccetera. Allora, Padre Pio, per chiarire questo concetto, racconta questa battuta spiritosa e dice che papà e figlio stanno vicino a fuoco e devono andare a letto. E quindi, mentre si preparano a salire al piano superiore per andare a letto, cominciano a sentire dei rumori cadenzati, boom, 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 eccetera, dal piano superiore che è disabitato. Padre dice al figlio, hai lasciato la finestra aperta, forse sono i morti, la zia che è morta, la suocera che è morta l'anno scorso e di difetto sa quanto ce ne teneva. Vai a vedere sopra che succede. Il figlio va, gira, si rende conto e scende. Papà, non ti preoccupare, è un millepiedi che si toglie le scarpe. È il padre ed è passata la nottata.